Il cartellone in programma del Circolo Artistico è molto ricco per quest'anno, abbiamo visto il Passioni Festival che verrà ospitato in queste sale, ma sono tante le iniziative proposte. Quali sono? Sì, abbiamo un calendario sempre più nutrito che ci dà prestigio perché anche i soci stanno continuando ad aumentare. Il 29 ora abbiamo questo alle nostre spalle, il banchetto etrusco, quindi sarà presente il direttore del Museo Villa Giulia di Roma, il professor Pellegrini, che ci rappresenta la vita a quel tempo. Ci sarà uno chef specializzato in banchettistica etrusca e romana che preparerà alcuni piatti e con Mondini avremo il vino prodotto con la metodologia etrusca, quindi con gli ziri sottoterra. Tra l'altro questi ziri sono presenti al museo a Parigi, quindi insomma una cosa importante. Ovviamente il nostro calendario si sviluppa dal primo concerto che abbiamo avuto la domenica passata fino a aprile-maggio con concertistica, spettacoli teatrali fatti in collaborazione con il Teatro Virginian, giù di sotto il nostro teatrino interno. E poi abbiamo spettacoli di musica, serate a tema, avremo una serata con la partecipazione di uno chef direttamente da Masterchef che ci presenta qualcosa di particolare, alcune serate in collaborazione con il Presidio Slow Food. Quindi cerchiamo di avere argomenti che trattino un po' tutto, quindi appunto dalle presentazioni di libri alla musica, al ballo. Abbiamo qui presente tra l'altro al Circolo quest'anno anche una scuola di danza classica, ha trasferito la sede qui l'Associazione degli Scacchi di Arezzo. Quindi diciamo le iniziative sono tante che noi apriamo alla città ovviamente. Grazie.